Sottosegretario Alfano, cosa la porta da Vano a Montegrotto? Le terme? Una bellissima città che ci chiede di valorizzare dei beni militari perché ne ha bisogno e noi che siamo una forza presente ma moderna ci apriamo a queste richieste. Quindi noi cerchiamo di ridurre i fitti passivi, cerchiamo di valorizzare le sedi militari per quelli che possono essere obiettivi diversi quando questi beni non sono necessari alle nostre funzioni. E qui c'è l'esempio concreto di questa alleanza fra l'agenzia del demanio che è proprietaria, fra la difesa che la gestisce e fra il comune che ne chiede l'uso. Quindi è un momento positivo, io spero di viverne ancora altri. Molti comuni ci chiamano, certo le caserme servono, le sedi militari servono e quindi non bisogna esagerare. Però lì dove è possibile fare uno sforzo per lasciare una caserma, un'area militare alla città credo che è un fatto positivo. Proprio in un periodo in cui le caserme invece tendono a chiudersi mentre c'è una forte richiesta di sicurezza, quindi un po' in controtendenza? Ma noi non chiudiamo le caserme, perché le caserme è fatte di uomini, di donne, di organizzazioni, di tecnologie. Noi chiudiamo sedi quando queste sedi sono superflue. Io ero ragazzo e immaginavo le caserme, le vivevo poi, mio padre era da binire, caserne molto estese con meccanismi di difesa legati allo spazio. Adesso le caserme si razionalizzano, quindi si riduce anche il numero, perché come tutti sanno dobbiamo anche ridurre i costi per quelle che sono esigenze nazionali. Però è ovvio mantenere sempre un numero di caserme e un numero di militari sufficienti per la sicurezza.